Partiti! Poco prima dell'ingresso addirittura è in vantaggio Cabestus davanti a Spagone, Bridge, Ghostly e Tiranitar. I cavalli entrano in dirittura con Cabestus in vantaggio a centropista davanti a Spagone, Tiranitar, Bridge, Ghostly, Boris, Grigori e Melite. In vantaggio Cabestus davanti a Melite, Spagone a centropista, Bridge, Ghostly, Rock Royalty, in vantaggio Spagone davanti a Cabestus, Rock Royalty, conduce Spagone attaccato all'esterno da Rock Royalty, passa Rock Royalty davanti a Spagone, Cabestus e Melite. Grazie. Grazie.